buongiorno allora oggi lavoriamo con gli occhi chiusi andiamo a fare dei lavori quindi sull'equilibrio partiamo con un lavoro facile facile bene in allungo spalle basse chiudo gli occhi conto dieci volte vado sulla punta dei piedi e torno vado su e torno ok spingete verso l'alto non andate in avanti e fatelo molto molto lentamente sia la salita che la discesa ok le prime volte sarà un pochino più complicato ma piano piano prenderete il ritmo apro gli occhi mi oriento un attimino dopodiché chiudo nuovamente gli occhi e faccio un affondo con la gamba destra ok stabilizzo la posizione un braccio avanti quello opposto alla gamba l'altro braccio in fuori ok e poi cambio vado uno due tre quattro cinque conto dieci perfetto poi lo faccio anche con l'altra gamba lo faccio sempre con gli occhi chiusi anche con l'altra gamba dopodiché giro anche la testa allora occhi chiusi fuori le braccia benissimo giro la testa destra e poi giro a sinistra ok giro a destra naturalmente adesso l'equilibrio è molto 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 più precario ok giro recupero giro benissimo dieci da una parte dieci dall'altra l'ultimo lavoro che andiamo a fare allargo la base d'appoggio scendo dentro la pancia chiudo gli occhi braccia in fuori mi allungo a destra e mi allungo a sinistra questo è molto meno complicato ma lo stesso lo facciamo con gli occhi chiusi e ci allunghiamo bene bloccate le ginocchia blocco fino all'ombelico mi allungo da una parte mi allungo dall'altra su questo esercizio controllate sempre di avere le spalle spinte verso il basso ok quando ho finito riapro gli occhi chiudo perfetto buona settimana ciao ciao ciao